Varchi Comics, settimo anno tra le nuvole parlanti. Tre settimane all'edizione 2016 in programma il 19 e 20 marzo. Una fiera di fumetti e non solo che esce dal panorama locale, entrando di fatto tra gli eventi a carattere nazionale sull'argomento. Tutto è già pronto, la risposta degli appassionati appare come un successo annunciato. Siamo alla settima edizione, un'edizione che noi speriamo avrà un grande successo. Abbiamo un sacco di artisti che interverranno a Montevarchi e rispetto all'anno scorso speriamo di fare un salto di qualità e di quantità, visto le presenze e tutto quello che ci gira intorno. La novità di quest'anno è che avremo una piccola appendice in Piazza Varchi con i cosplay e con gli appassionati della Lego con il club del mattoncino di Figline. E la crescita dell'evento è riconosciuta dagli specialisti del settore. Siamo fra le prime fiere in Toscana e direi anche fra le prime a livello nazionale. La crescita ogni anno è in maniera esponenziale e quindi speriamo sempre bene per il futuro e per le prossime edizioni. Però Montevarchi è un nome già abbinato alle fiere del fumetto. Questa una breve citazione sugli ospiti che globalmente però sono oltre 30. Sono più di 30 ospiti, sembrerebbe quasi fare un torto parlare più di uno che di un altro. Io magari così a occhio mi può venire in mente di pensare a quelli che organi di stampa anche importanti hanno fatto parlando di noi perché effettivamente iniziamo ad andare anche su organi di stampa che valerano le nostre zone. Per esempio è stato parlato di Sara Pichelli, di David Messina e di Arturo Lauria che sono autori molto affermati nel campo soprattutto americano e anche poi italiano.